RedCord ha creato un programma formativo suddiviso in tre aree molto specifiche, medico, attivo e sport. Il metodo Neurac nasce e si sviluppa come strumento dedicato ai professionisti della salute, fisioterapisti e medici. È un trattamento riabilitativo che consiste nella realizzazione di test, esercizi e tecniche specifiche attraverso l'utilizzo del sistema di sospensione RedCord. L'obiettivo è quello di recuperare gli schemi di movimento funzionali grazie ad alti livelli di stimolazione neuromuscolare. Mirate a ripristinare la funzione, eliminare o ridurre il dolore attraverso alti livelli di stimolazione neuromuscolare. I principali componenti della terapia Neurac sono esercizi in catena cinetica chiusa con il sistema di sospensione RedCord, instabilità controllata fornita da funi e fasce, movimento in più piani, progressione precisa dei carichi di lavoro, movimento libero da dolore.